video video ragazzi oggi sono annoiatissimo non faccio che bere coca cola cosa che non bevevo da tanto perché avevo smesso e non faccio che lamentarmi quindi sono tremendo annoiato che oggi faccio quel cazzo che voglio su questo album caldo mambo rosco più boro boro io li chiamo zio mambo e zio boro artisti due artisti boro boro diciamo che boro boro diciamo che fa ha portato la trappo inglese su un beat italiano quindi guarda il mio passo invece boro boro king siccome king dei reggaeton in italia beh c'è sempre elettra poi elettra lamborghini ok questo album questo reaction è un po strano di solito quando faccio un reaction di un album parto da primo però stavolta voglio parte perché tutti i feat sono in uno due tre quattro cinque sei feat e voglio partire dal pesca feat beba oggi faccio quel cazzo che voglio perché di solito gli album non rifinisco mamma che è moioso pesca di solito gli album non rifinisco mamma che è un po' di solito l'autotune di solito gli album non rifinisco mamma che è un po' di solito l'autotune bella il beat anche anche il slow bella bella non vede l'ora del weekend le piace fare festa le piace fare squat e muovere la pesca la di you trappin ci sta no c'è soprattutto la parte di mamma che è scoperto bella 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 è e bella Asian la prima fa un culo io ce il culo che faccio Sarà, boh, non so se era proprio uguale, chi se ne frega Non vede l'ora del weekend, le piace fare festa Le piace fare squat e muovere la pesca Le piace fare squat e muovere quel boom Dura 4 minuti questa canzone, minchia Non vede l'ora del weekend, le piace fare festa Che se sono l'altro, non un altro in testa Le piace fare squat e muovere la pesca Quando muove il culo, chissà cosa pensa Le piace fare boom, boom, boom Le piace fare il pesca, boom, boom Le parole non hanno senso, insomma, i beat mi piacciono Un punto per i beat Ritornare a bello Drip, drip, drip Comunque, bora bora non so, non ho capito a sua parte Ma comunque mambo rosca spaccato Twerk remix fit Anna Io sto qua anche veloce Perché Twerk sappiamo com'è Proprio, proprio se vedo il can medicatio lo salto Nadia, io Motorsio, non so che questo producer Nadia No Soul La sola parte è uguale Evo inc Männer Drip 돼 Drip 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 E' un po' di bici di Anna Bendo, eh? la torta perché sappiamo già che pezzo ha, volevo solo sentire la pazza, la maggior parte del remix facciamo veloci perché comunque pezzi che avevo già sentito si sta, finisci a live così salto dopo, figata si sta, si sta a botto in questo caso sono le cazzere che mi mettono in discoteca dei sericeri, cioè c'è bene comunque l'avevo già sentito, comunque la ripete le stesse cose, ma nenna già già sappiamo che pezzo è quindi, perché questa qua, perché l'ha caricato due volte? ma è il remix no? perché viene caricato due volte sto pezzo, perché? perché me lo caricato due volte? no, passo sappiamo già che pezzo è quindi, comunque sono arrivato a, ho scattato sei pezzi in un po' con minuti perché comunque, fino a scattato questo e poi basta perché questi tre sono già pezzi già ascoltati allora facciamo una cosa, ascoltiamo, facciamo una cosa, partiamo da Havana, no, no, poi c'è Mesami ma sono tutti i pezzi di reggaeton ma questo stile di convolgere il coro delle elementari il coro, non altro, il coro delle elementari, ma anche DREF GOAT nel suo album l'ha messo poi l'ultimo, anche nell'album di, se fosse di TEDWA c'era questo stile, non so non mi ricordo, però è la terza volta che sento da artisti questo coro bambino anche nell'album di TEDWA c'era la stessa cosa ciao 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 oggi ciao 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 a Non mi guarderai, non mi guarderai te detto che sono tu Somebody Sì tu non dà farete fare ac 그거 solo con me Zorro che porto le poteri Non mi guardo laшая Comunque dai, a parte che ho scusato forse tre canzoni sinceramente perché gli altri hanno tutti i remix. All'inizio mi aspettavo un po' di più da quest'album sinceramente sai qualcosa, però le condizioni che ho scritto sono megatoni, ci stanno magari per le discoteche così, ma però l'album diciamo che non è male, non è male, non è l'album peggiore che ho ascoltato perché l'album peggiore che ho ascoltato è quello di Wepekenio perché già dai ma potete dire quello che vuoi, ti giuro che non ho mai scritto un album così schifoso, però ci sta lo stesso. Comunque ci vediamo per la parte 2 domani, sempre se domani, e iscrivetevi al canale e ha un like.